Pia, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta a fare voglia, e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego il tuo peccatore, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta a fare voglia, e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego il tuo peccatore, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta a fare voglia, e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego il tuo peccatore, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta a fare voglia, e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego il tuo peccatore, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta a fare voglia, e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego il tuo peccatore, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Santa Maria, partita il tuo seno, Gesù. Sarà di Dio, prego il tuo seno, Gesù. Bene ragazzi, adesso ve lo faccio vedere, è una panoramica, guarda. Questa senza attaccare, ma che l'attacchiamo ancora più bello viene, guarda qui ragazzi, proprio un regalo, è vero, ecco, un attimo. Lo ricevo. Dal secondo mistero doloroso tricontempo, la flagellazione di Gesù alla colonna, preghiamo per i carcerati. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ecco qua, ecco qua. Grazie. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è un frutto dal tuo seno Gesù. Le mani condividiamo. Ciao carissimi. Grazie. Grazie. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti